Sempre giovani, la movita, sono irresponsabili, invece non siamo irresponsabili, anzi approfittiamo per farci il vaccino. Sono le 6.30 e come potete vedere alcune macchine sono già incolonnate nell'attesa di ricevere il vaccino. I vaccini ordinari sono sospesi fino a domani, questa è una maratona totalmente dedicata all'AstraZeneca. Se non iniziamo adesso col vaccino, come combattiamo questo virus? È anche molto bello vedere che molte persone, soprattutto molti giovani, siano venute oggi a vaccinarsi. È più che altro un modo per riavere la nostra libertà. La seconda dose in piena spazio, dovrei rinviare le vacanze? Sempre per fare la seconda dose sono risposto a farlo. Io alle 7.30 ero prenotata e per le 7.30 mi sono anche seduta dopo il vaccino, è stato velocissimo. Il richiamo quando lo farai? Senza agosto dovrebbe essere. Dovrai posticipare le vacanze? Speriamo di no. Allora, dalle 6 di stamattina ad ora, che sono le 9.44, abbiamo somministrato 871 doti. Molti adulti sono i responsabili che rifiutano il vaccino, perché il vaccino non si dovrebbe assolutamente rifiutare. Questo sito in due giorni riuscirà a fare quasi 9-10.000 vaccini. Sono le 17 e fino ad ora abbiamo 2.600 persone vaccinate. Io ho 19 anni e mi vaccino per tutelare la mia salute e quella dei miei genitori. Poi anche per andare in vacanza in maniera sicura, visto che l'anno scorso ho fatto la quarantena. Sono il numero 3.554 e mi sono vaccinato alle ore 23.07. Poi anche per ciò che non si avessero. Io ho messo tutto il clamor.